Perché Civimix conviene due volte? È semplice! Dopo aver versato almeno 10.000 euro sul tuo conto deposito, investi ogni mese per un anno un dodicesimo dell'importo in fondi di investimento di partner selezionati. Cosa c'è di speciale? Fino a quando la somma non sarà completamente investita, avrai un interesse del 5% lordo sul saldo del conto deposito. E dato che investi in momenti diversi, puoi compensare le oscillazioni dei mercati azionali. Approfitta subito di questa duplice opportunità con Civimix.